Ordinanza contro lo sversamento abusivo dei reflui zootecnici nei corsi d'acqua sul territorio comunale di Capaccio Pestum da parte del sindaco Franco Alfieri. Il provvedimento obbliga tutti i titolari o gestori di aziende zootecniche ed attività produttive di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari a presentare entro 30 giorni la documentazione del sistema di gestione dei reflui zootecnici delle acque di lavaggio e la documentazione tecnica volta a dimostrare la congruità tra la capacità di stoccaggio dei reflui e l'effettiva consistenza dell'allevamento. Chi non si metterà in regola rischia la chiusura dell'attività ed il ritiro delle concessioni. L'ordinanza arriva in seguito alle numerose segnalazioni relative a sversamenti abusivi e scarichi illegali nei corsi d'acqua del territorio pestano.